Tra le cause più frequenti di incidenti stradali, purtroppo anche mortali, c'è la guida in stato di ebbrezza. Mettersi al volante, dopo aver bevuto alcol più del consentito, può avere conseguenze anche fatali per se stessi e per gli altri. Così come guidare avendo il telefonino in mano per parlare o addirittura navigare su internet, rispondere a messaggi sui social, perdendo di vista la strada, comportamenti errati ai quali si aggiungono il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. In questo contesto appare preoccupante quanto emerge dai dati del sistema di sorveglianza Passi dell'Istituto Superiore di Sanità e che riguardano il Molise. Aspettando i dati del 2023, la ricerca evidenzia che nel biennio 2021-2022, 12 intervistati su 100 nella nostra regione del dato percentuale più alto d'Italia, 5,4, hanno infatti riferito di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol nei 30 giorni precedenti l'intervista e di aver assunto due o più unità alcoliche un'ora prima di essersi messi alla guida. I dati nazionali indicano che la guida sotto l'effetto dell'alcol è più frequente nella fascia di età, 25-34 anni, l'8%, soprattutto fra gli uomini. L'analisi mette in luce che le regioni più esposte al fenomeno sono quelle settentrionali. Tuttavia, come nel caso del Molise, non mancano regioni del sud con percentuali alte di persone che hanno riferito di guidare dopo aver bevuto alcolici.